Fine settimana all'insegna dei controlli della Polizia Municipale alle attività commerciali nei luoghi di maggior transito pedonale a Palermo. Sanzionato un locale in via Macheda, all'atto del sopralluogo, in base a quanto verificato alla Polizia Municipale, era in corso un intrattenimento musicale con emissioni sonore e diffusione musicale amplificata all'aperto, dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sempre in base a quanto riportato alla Polizia Municipale, sono emerse numerose violazioni per gravi ed evidente carenze igienico-sanitarie con mancato rispetto dei prescritti requisiti generali e specifici. È risultato altresì non installato il misuratore fiscale e all'interno del locale il distributore automatico di caffè era privo di autorizzazione e collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo sono state accertate le seguenti contestazioni, verbali di 50 euro per mancata presenza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, sequestro amministrativo cautelare con apposizioni di sigilli di tre apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, console e mixer, per diffusione musicale all'aperto in un'area di pertinenza e locale, con verbale di contestazione di 50 euro, verbale di 2.000 euro per le gravi ed evidente carenze igienico-sanitarie strutturali rilevate, verbale di 2.000 euro per emessa applicazione del piano di autocontrollo, HCCP, con conseguente mancato rispetto dei prescritti requisiti generali e specifici in materia di igiene, verbale di 5.000 euro per l'installazione di distributore automatico privo del prescritto scia di somministrazione di alimenti e bevande, verbale di 3.000 euro con l'installazione di distributore automatico privo della prescritta autorizzazione sanitaria, sequestro amministrativo cautelare con apposizione di sigilli di un distributore automatico di caffè, successivamente con ordinanza del SUAP sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di 5 giorni dell'attività. Per gli illeciti relativi alla mancata installazione del misuratore fiscale e per l'omesso collegamento telematico del distributore automatico con l'Agenzia delle Entrate, gli agenti e la Polizia Municipale hanno richiesto l'intervento della Guardia di Finanza, che ha proceduto alla contestazione delle violazioni fiscali di mancata installazione del misuratore fiscale da gennaio 2020, mancata emissione di scontrini fiscali, omesso collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate, immediata sospensione dell'attività per evasione fiscale, immediata interruzione dell'evento abusivo di intrattenimento musicale.